Capri Blu, buonasera, sono Adriana. Sì, signora, mi lascia il cognome, è l'ora. Oggi apre Capri Blu a Torre Anunziata, la prima pizza post-quarantena. Come vi sentite? Ci sentiamo molto emozionati e, al dire la verità, io stamattina, quando mi stavo preparando per venire al lavoro, mi sembrava, sai, quelle ragazze che il primo giorno di scuola, che devono andare a scuola, mi sentivo molto emozionata perché, dopo la quarantena, ci voleva un po', un cambio d'aria, dai. Anche per dare più entusiasmo ai clienti, ai nostri clienti che ci cercano tanto, anche ci hanno contattato su Facebook, che non vedevano l'ora di assaggiare la nostra pizza. E io stasera, io la portiamo a casa. Sono appena alle 17.15 e già hai preso tantissime prenotazioni. Sì, sono già piena. Sono già piena tra cellulare e WhatsApp, agenda, siamo pieni. E ancora che devono arrivare. Come avete vissuto questo periodo di quarantena? Dice, con la speranza, ecco, di arrivare a questo giorno. Quello che ci ha portato, ci ha dato forza, che il primo o poi tutto finisce. Non vi siete resi, oggi siete qui. Qual è l'appello che fate ai cittadini? Non abbiate paura, un altro poco di pazienza e poi la pizza la perdete a mangiare qui. Grazie. Grazie.